Giocando contro una squadra che ha giocato con tutte le squadre, forti anche, molto vicino, vicino a andare al tie-break, vicino a vincere, per noi era una partita dura, però Angelo ti ha detto che deve essere una finale per noi e penso che l'atteggiamento sia stato il giusto. Magari qualche fondamentale non siamo stati bravissimi, però l'atteggiamento e la concentrazione è stata massima per vincere contro una squadra che, giocando dentro casa, è sempre molto pericolosa. Qual è, dovendo fare un primo bilancio, il vostro punto di forza in questo momento della stagione e quelle che sono invece le cose da migliorare? Difficile di dire, io penso che abbiamo degli attaccati molto forti, per un palleggiatore è anche facile giocare con gli schiacciatori che ce l'abbiamo nella squadra. Il nostro punto di forza, penso sia stato sempre, siamo una squadra molto unita, tanto dentro quando fuori campo, questo ci fa piacere giocare insieme, penso che dobbiamo migliorare, possiamo migliorare in tutto, non abbiamo molto tempo da lavorare, sono tante partite una vicina all'altra, però adesso che dopo queste ultime tre abbiamo una sosta, penso che lì possiamo crescere anche nell'allenamento che sicuramente ci darà una mano per le fondamentali, per il contrattacco, che è una cosa che dobbiamo migliorare abbastanza. Grazie a voi.